Fondo sviluppo nuove imprese Convegno a Rocham, nuova impresa in Toscana.it È ancora operativo il Fondo sviluppo nuove imprese, istituito dalla Camera di Commercio di Prato, allo scopo di sostenere le idee imprenditoriali più innovative, economicamente sostenibili ed interessanti per il mercato, andando a superire la carenza di capitale in fase di start-up. Il Fondo sviluppo nuove imprese serve infatti proprio a far emergere le idee di imprese più interessanti, dando agli imprenditori o aspiranti tali gli strumenti per poter dare più corpo alla propria idea di business e alla fine premiando le idee più interessanti con una partecipazione al capitale sociale da parte della Camera di Commercio di Prato. Si tratta di una partecipazione temporanea, che serve per aiutare le imprese in fase di start-up, ma che può essere un grande aiuto anche per avere maggiore credibilità sul mercato. Prosegue intanto anche il lavoro di scouting che la Camera di Commercio sta portando avanti sul territorio, allo scopo di raggiungere i soggetti in possesso di idee imprenditoriali brillanti. Informazioni più dettagliate sulle caratteristiche del Fondo e sulla modalità di partecipazione su www.po.com.it Un convegno sulle e per le piccole e medie imprese, che parla dell'Europa e della forza del manifatturiero, dei rapporti fra imprese e sistema bancario, di una pubblica amministrazione in grado di think small, ovvero di agire e pensare a misura di PMI. È quanto la Camera di Commercio di Prato sta organizzando per febbraio, a Prato, in collaborazione con Eurochambre, l'organismo che riunisce tutte le Camere di Commercio d'Europa. È online www.novoimpresaintoscana.it, portale informativo realizzato dalle Camere di Commercio della Toscana, ideato per offrire a chi vuole avviare un'impresa in Toscana un servizio di informazione e consulenza sempre attivo e fruibile da casa 24 ore su 24. I temi affrontati dal portale spazzano da come avviare un'impresa, con l'indicazione delle procedure, all'imprenditoria femminile e giovanile. www.novoimpresaintoscana.it